Il modulo vendita al banco di RidiPro consente di gestire in maniera semplice e rapida tutte le attività di vendita al dettaglio, a partire dai movimenti di cassa fino allo scarico automatico del magazzino dei prodotti venduti. In questo esempio abbiamo utilizzato un POS Touchscreen RCH, un lettore barcode bancolini e un registratore di cassa Epson. RidiPro è compatibile con numerosi marche e modelli di sistemi POS, misuratori fiscali e lettori di codice a barre. Tramite la gestione pannello rapido si possono sfruttare tutte le potenzialità di un monitor touchscreen effettuando comodamente l'inserimento articoli senza usare mouse e tastiera e ancora più velocemente usando un lettore di codice a barre. Il pannello rapido può essere personalizzato creando apposite aree di pulsanti con prodotti di tipo servizio. Nel nostro esempio di salone di bellezza abbiamo creato un'apposita area listino donna con tagli e acconciature. I pulsanti possono essere utilizzati anche per vendere velocemente i prodotti di uso più comune. Tramite il lettore ottico invece possiamo inserire gli articoli provvisti di un codice a barre. Al termine dell'inserimento articoli tramite il pulsante scontrino viene chiuso il movimento ricevuta e stampato lo scontrino fiscale. Nella parte sinistra del pannello rapido possiamo notare l'elenco degli articoli e alcuni pulsanti funzioni mentre a destra viene visualizzata un'area dove sono contenuti i pannelli dei prodotti o servizi visualizzabili attraverso gli appositi pulsanti. All'interno del pannello rapido è possibile anche intestare la ricevuta ad uno specifico cliente per creare una memoria storica dell'acquisto da ricercare in futuro oppure attraverso il pulsante tipo di incasso suddividere l'ingresso della valuta in alcune tipologie come contante, carte di credito, assegni eccetera. All'esterno del pannello rapido si trova l'elenco movimenti del giorno che contiene ogni singola riga delle vendite effettuate. L'elenco può essere personalizzato aggiungendo colonne per visualizzare ogni tipo di pagamento. Tramite l'opzione totali in cassa è possibile verificare e in caso confermare l'esatta presenza di denaro in cassa durante la giornata.